Credo che questo livello sarà al male Ho l'impressione che questo livello sarà al male Ok allora i cartelli mi dicono dove devo andare Ok aspetta I cartelli mi dicono da che parte viaggio Merda che ho saltato a una Che ho saltato a una cazzo Cazzo se ho una carota mi devo ammazzare Mi devo ammazzare no ho saltato una carota ragazzi No no ragazzi ragazzi mi devo ammazzare In qualche modo devo ammazzarmi in qualche modo Ne sto scansando troppe Ok grazie Ok no ragazzi Non posso permettermi di rifare un intero livello Perché ho mancato un paio di carote Non posso permettermelo Deve essere un perfect try Deve essere un perfect try Allora Allora Salta Salta Io non so se la mancanza di binari Nel centro mi fa perdere roba Ma nel dubbio Ok ma quindi l'esplosivo mi fa perdere vita Ok Ok Presa presa ok No Bugs non rimane su una ruota sola all'infinito Ok lo fa solo per un momento Ragazzi per dire Questo mi fa capire Lui rimane lì Uno Ok per un secondo Bugs resta fermo Ok se io non lo cambio Invece va tutto a diritto Tanto la strada si è fatta Ok Se manca Le assi di legno Possiamo sempre andare Ok Aperatelo di qua Perché ci manca una fassa Ok Questi però Sui strozzi mi leva le rotaie Però Ok ragazzi Ma C'è un po' di problemi ora Ora c'è un po' di problemi tecnici Ma di qua dove vado? Oh no Dovevo fare il giro vero? No mi son perso roba No Dovrò rifare sto livello So già che dovrò rifare sto livello No 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 Ragazzi No Dovrò rifare il livello No 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 Mi son perso Non voglio rifare il livello Da capo Tutte le cose Ok aspetta aspetta Ok aspettate aspettate Se vado lì Devo riprendere quella scatola Forse non finiremo il livello In maniera perfetta ma Ok con cerchio mi abbasso Ok con cerchio mi abbasso Ho preso tanto uguale Ok Io spero di non aver perso nulla dall'altro lato No ragazzi spero davvero di non aver perso nulla dall'altro lato Se non mi cazzo Ok non prendere il coso Oddio oddio no è un casino Ragazzi è un casino No questo sarà uno di quei livelli che dovrò impararmi a memoria Quello sarà questo ragazzi sarà uno di quei livelli che dovrò imparare a memoria Ragazzi questo sarà uno di quei livelli che dovrò impararsi a memoria No Sarà un macello Tanto sono sicuro che ho perso roba di là Sono sicuro che dal lato di là ho perso roba No 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 Mi sono perso roba Mi sono perso No No ragazzi dovrò rifare sto livello infinite volte Mi sono perso roba No No io speravo di farlo perfetto Speravo di farlo perfetto invece dovrò imparare a memoria a livello Io ho saltato eh Sapete sai fa di gioco di città di pixel peggio Oddio oddio che sto facendo Mi sa che fare questo livello per bene al primo tentativo servirà un sacco di macelli Dio Come cazzo mi Come mi scalso il barile dovevo saltare e basta Sì ma ti prego no Oddio ma ti prego no Ok ho capito come fare fuori io se might ma Stiamo prendendo la schiaffi tutte le volte Devo prendendo la schiaffi tutte le volte e passa Ok Per favore Per favore Io se might dove sei Cioè ragazzi è che io sono già depresso perché Dov'è? Dov'è finito? È morto? Ragazzi io sono già depresso perché so che dovrò rifare sto livello infinite volte Tanto lo so che ho saltato della roba non ce la farò mai a farlo per bene Quella è la fine livello vero? Io no Ottimo Ho mancato un sacco di roba Ho mancato un sacco di roba Ma perlomeno è tipo tutta a diritto 32 su 40 Oddio Ok lo possiamo rifare Non è così fastidioso È più pallosa la parte iniziale Si può saltare Si può saltare Allora Ah già è vero ma le scatole Devo riprendere uguale Raccogli 10 di questi oggetti Ma le scatole devo riprendere uguale Allora aspetta No ragazza allora aspettate Aspettate C'è da rifare C'è da rifare tutta la merata Perché se non prendi tutte le scatole Poi deve rifare tutto sto bordello infinito Allora credo che Da lato di là ci fosse soltanto la sveglia giusto? C'era solo la sveglia di qua Vero? Ok di qua c'era solo la sveglia Posso anche ammazzarmi Faccio prima Posso anche ammazzarmi E tanto fa prima Allora Vai di qua Allora una scatola sta lì Quello va bene Per favore Ce la possiamo fare ragazzi Ce la possiamo fare Allora di qua di qua Vai a prendere la scatola Probabilmente ragazzi A voi taglierò Nel pezzo interessato Perché qui tutto sommato Si tratta di rifare roba Che abbiamo già fatto Forse Voi Rivedrete il video Quando sarò già nelle miniere Quindi Bella Allora ragazzi Ci li siamo Dovremmo essere il nome Nella miniere Vediamo di farlo per bene Questa volta Questa volta vediamo di farlo per bene Allora Mi sembra Prima dobbiamo curvare per forza Mi sembra dobbiamo curvare per forza Alla prima Mi sa che questo è uno di quelli belli Che te lo devi imparare a memoria Perché sennò non lo fai Questo mi sa che è uno di quelli belli Che ti devi imparare a memoria Perché sennò non lo fai 2 su 10 8 su 10 32 su 41 Ok Allora Tanto il primo Abbastanza facile Prima basta saltare Prendiamo il coso Allora Questa prendiamola Perché immagino a questo punto Faremo un giropazzo Immagino a questo punto Faremo un mega giropazzo Tanto almeno le carote restano memorizzate Le carote restano memorizzate Questo è un bene Allora Prendi Prendi 35 su 41 Le carote sono 41 Adesso Se riparte da qui Ma dobbiamo andare a destra A questo giro Quindi il primo si va diritto Diritto destra Ok Diritto destra Possiamo farcela Non è così difficile La freccia sopra Indica in che direzione devi andare È molto comoda Non l'avevo vista Non l'avevo visto proprio Sono sceco Allora Adesso Sì Dovemo andare a destra Ah merda Pensavo di Poterlo scansare Allora Allora Qua Questo mi leva I binari Ma va bene Tanto ne saltiamo Mi potrà anche levare Tutti i binari Che vuole Ma se io salto Non se ne faccio Non se ne fan duda Perché è scemo I binari Se li fa mettere in camera E là come soprammobile Adesso Adesso è un attimo Problematica Ora diventa un attimo Problematica Non mi ricordo Cosa abbiamo fatto Fammi vedere la freccia Dove punta La prima freccia Dove punta Destra A sinistra A sinistra Allora Secondo me La prima freccia Punta nella direzione Obbligatoria Per andare avanti Quindi cambiamola Andiamo a diritto Merda No questo mi sta tanto di Ok Direzione giusta Direzione giusta Ok La prima freccia Punta nella direzione Dove dobbiamo andare Quindi noi Tutte le volte Che vediamo il bersaglio Per la prima volta Lo dobbiamo prendere Ho visto una bomba strana In basso Oh no sono scemo E' vero Non dovevo girarlo Ok Scusatemi Sono scemo io Sono effettivamente Scemo io Mi volevo ammazzare Perché c'è una calotta Lassù in alto Ok No mi volevo ammazzare Perché pensavo Di aver sbagliato strada Ogni tanto Ti prende danno Ok Vabbè Ok questa volta Non dobbiamo Prendere il bersaglio Ok Se al prossimo giro Prendiamo il bersaglio E Finiamo per fare un loop La mia tesi è giusta C'è una bomba Là in basso Va bene Allora Adesso si gira Sì Salta Ok Ok Sto iniziando a prenderci la mano Ragazzi Sto iniziando a prenderci la mano Sveglia Carota E scatola Boom Boom E ce la stiamo facendo ragazzi Ok Quindi questo è un percorso obbligato È un percorso obbligatorio Questo Ok Adesso Aspetta Perché ora inizia ad essere confusionaria La cosa La cosa inizia ad essere confusionaria Allora aspetta Il primo bersaglio Lo dobbiamo prendere Il secondo Non mi ricordo Dobbiamo Contare un attimo Quanti sono i bersagli Uno Allora questo è uno Già scusami Il primo non va preso È vero Sono scemo Non ho capito Quando devi saltare Per evitare L'innalzamento Ma vabbè Stavo guardando Se c'erano altri tasti O che si poteva fare roba Allora Il primo Non lo devi prendere ora Allora Uno 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 Facciamo così Uno Uno Il due mi fa fare il giro di là Tre Ok aspetta Allora al prossimo giro Il secondo ci manda a destra Il secondo ci manda a destra Ok quindi dobbiamo prendere il secondo Dobbiamo prendere il secondo E andare a destra Ok Allora il primo non va più toccato Il secondo lo dobbiamo prendere Così si va a destra Non so perché la giuce è una bomba Allora Possiamo farcela Ce la possiamo fare Allora Salta bene Sono scemo Sono scemo Il secondo non dobbiamo prendere Madonna ragazzi Mincazzo Mincazzo Ok però stavo facendo pratica Stavo facendo pratica Allora Il primo non va preso Il secondo non va preso Ok Vanno presi la prima volta Solo per fare la strada secondaria Ok No Ce la possiamo fare ragazzi Non è impossibile Ce la possiamo fare Adesso non lo prendere Non prendere il bersaglio Destra Su Questo va preso però Perché se no ci scansiamo roba 1 Carota 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 E poi ci dovrebbe essere una scatola Va presa Ora 39 41 9 su 10 7 su 10 Ok L'ultima sveglia La prendiamo Con tutte le scatole L'ho fatto perché sicuramente C'è roba interessante Carota Normale Scatola Ok quando noi vediamo il giro tondo Lo dobbiamo prendere per forza Quando vediamo il giro tondo Lo dobbiamo prendere per forza Carota d'oro Scatola Carota d'oro Le carote ce le abbiamo tutte Le scatole ce ne manca una E l'ultima sveglia La prendiamo Con l'ultima scatola Quindi a posto Ce la possiamo fare Spero di non averla scansata O no Spero di non averla persa Spero di non averla persa Aiuto Perché Manca Solo una Ma non vorrei averla persa Ho paura Non vorrei averla persa Perché Il binario Poteva andare a diritto Prima Il binario Prima poteva andare a diritto Non vorrei averla persa Ok devi saltare subito Quando loro lo alzano Devi saltare subito Ok ma più uguale Ma più uguale Ma Ok Aspetta Questa è l'ultima Posto Ce le abbiamo tutte Ce le abbiamo tutte Ragazzi Solo una volta è bastato È bastato una volta sola Ce le abbiamo tutte Vero Abbiamo tutto Ok Finito al second try Finito al secondo tentativo Ragazzi Siamo morti Un paio di volte Ma ce l'abbiamo fatta Quando noi vediamo Io se mai di qua Boom Ok basta Fallo tre volte Non ha una vita infinita Di più Ok Credo sia morto Sì basta Fallo tre volte Se deve sul carrello Ok Ok Questo livello era fattibile Al primo tentativo L'abbiamo perso perché Siamo stati un attimo scemi L'abbiamo perso perché Siamo stati un attimino fa Ma per il resto Era a posto Ok Finito immagino Allora Immagino che abbiamo finito Ok 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 Al secondo tentativo Potevamo farlo al primo Ma È anche vero che al primo Tentativo Non conoscevamo il livello Ok Perfetto Non è possibile Non mi ha chiamato nessuno di importante E ho sbloccato Roma Boom Lascia che salvi la tua posizione Ok Sì salva Grazie merlo Ciao Sì È bello Gioco di mani Che fa merlo Tutte le volte Allora Qua abbiamo fatto tutto Immagino Allora Adesso vai qua Vai qua Medioevo Non abbiamo sblocato Nulla Gli anni 30 Nulla 120 Me ne mancano lì Per quello Non so che sia Dimensione H Finalmente Torniamo nella dimensione H Allora 117 sveglie Ok Ok E abbiamo 298 carote Perfetto Allora Quanta roba Posso o non posso fare Perché ho sbloccato un sacco di livelli Ok Questo è quello che ho sbloccato ora Ma c'erano altri livelli Che avevo già sbloccato qui Questo? Allora Questo è pianeta X Una sveglia 14 carote Mi sa che questo è stato il primo Che ho sbloccato dopo tutto quel casino Questo l'avevo fatto 14 26 Sì Il raggio l'avevo fatto Ok Questo è stato il livello che ho sbloccato per primo Quindi vai Faremo anche mens sana e incorpore sano Faremo anche The conquest for planet Wow Oh no È un livello a tempo È un livello a tempo È una gara Ok ok Aspetta Aspetta Il primo è mettere la bandiera sulla cima della montagna Vince la gara Già è vero Marvin Era uno stronzo Ripartiva prima È vero Allora ragazzi Aspetta 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 Ma mi interessa molto fare chissà cosa Mi interessa di più Ok aspetta Se io invece vado qua Ok E se io vado qua Da dove esco Sempre da qua Ok quindi se vado nel centro Nel centro da dove sbuco Sempre da qua Ok allora Quindi l'unico che mi manda avanti è il primo L'unico che mi manda avanti è il primo Tanto allora ragazzi È ovvio che a questo tentativo vincerà Marvin Ma comunque Allora di qua Che faccio Allora Aspetta 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 C'è roba di qua C'è Una carota L'ho vista Ah Ma l'avevo vista per nulla Dove cazzo sono Si lo so il tempo scaduto ma Non è che io gareggiassi per vincere In questo A questo giro A questo giro non gareggiamo per vincere ragazzi Gareggiamo per pendere tutte le carote Perché non credo tu possa Allora 9-14 Ok Ok ma tanto al primo giro puoi sempre Pendertela comoda Al primo giro te la puoi prendere comoda Qua Ok ma Non so cosa ho attivato Qua Ok Ragazzi tanto sono consapevole di aver perso Ma questa partita era per esplorare Questo round era per esplorare Bello c'è una X nello sfondo Mancano due carote Mancano due carote Le lascio una speglia Ok ma lo so di aver perso Ok se io riprovo Se io riprovo Mi annulla tutto quello che ho fatto Lì c'è un sacco di roba Ho visto una carota Ho visto una carota Ok però non ti dà proprio game over Lo puoi rifare Allora fammi vedere se mi annulla Che l'ho fatto Non credo Ok non mi annulla i miei progressi Allora Allora qui mi dà 3 secondi Ok 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 aspetta Oddio Vorrei prendere la carota però Come ci arrivo a prenderla La di sicuro Sicuramente da là Aspetta Aspetta Ok aspetta 13 E qual è la strada giusta Ok il primo mi rimanda indietro Il primo mi rimanda indietro Allora il secondo Di qua Ok quello centrale È la strada giusta Ok aspetta aspetta Ma tanto ragazzi Ok ora possiamo gareggiare Per vincere ora Le cose ce le abbiamo tutte Ok l'ultimo mi porta in cima Ok No l'ultimo non mi porta in cima Penultimo Ok il penultimo Ok Ok il penultimo Il penultimo Ok tanto lo so che ha vinto Marvin Ma Allora Sì Vediamo adesso Aspetta Ce la possiamo fare ora Allora vediamo di ricordarcelo Vediamo di ricordarcelo Quello giusto è l'ultimo Al primo giro Al primo giro Quello giusto è l'ultimo Sì Tanto Marvin parte prima Perché anche nell'episodio Marvin Ripartiva prima È vero c'è un'episodio Che c'era una gara E ripartiva per primo Non era questo Cazzo Era il secondo È vero Era il primo Ok allora Cerchiamo di ricordarceli Uno Oddio Deva essere anche preciso Appendola buca Allora ricordiamocelo Uno Uno Due Allora Uno due Cerchiamo di ricordarci Uno due Uno due penultimo Uno due penultimo Possiamo farcela Aspetta È solo questione di impararsi il percorso Vai Ma Marvin è sempre più veloce di me No ma ti prego No ma ti prego Non è mai stato così Perfetto Pixel perfect Nelle sane No uno Ora il due Uno due Ora penultimo 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 Sono arrivato prima di Marvin Oh Dammi la cazzo di sveglia ora Ciao Marvin Lo dovrei chiamarti spazzolina Proprio per spotterti Non lo so Marvin ha un che di cute Mi piace come personaggio Mi piace come personaggio Marvin Non lo so Ok L'abbiamo fatto Ok Fantastico Perfetto Fantastico Perfetto Hai completato Questo livello Lascia che salvi La tua posizione Si vola Si vola Ok sono Un quarto alle otto Io direi Vediamo il prossimo livello Com'è Ci vediamo Merlo E ciao Oddio ma è anche vero E' vero che i video i bug sbagli pesano la vita E' vero anche quello Menz sana in corpo e sonno Sai cosa 521 vai Ok Già è vero Si teletrasportava Non faceva in maniere convenzionale Oh no Oh no Aspetta Ok aspetta Questo non si può passare Mi fa prendere la carota Grazie Sicuramente avrò staccato I laser Si Lui sarà una merda Vero Rimetti tutti i movimenti Del marziano Per vincere la partita Ok Viola Ok però è una cagata Viola Blu Blu Poi cosa vorrà Viola Blu Rosso Viola Blu Rosso Viola Blu Rosso Giallo Ok Stavo anche per dirlo giallo Viola Blu Rosso Giallo Almeno non credo sia a tempo Viola Blu Rosso Giallo Verde Ragazzi vi giuro che non l'ho mai visto sto gioco prima Viola Blu Rosso Giallo Verde Viola Blu Rosso Giallo Verde Arancio Dai Palesissimo Dai Viola Blu Rosso Giallo Verde E arancio Posto Sei andato via L'ho triggerato Sei andato via Ho ferito i suoi sentimenti Ho ferito i sentimenti del marziano No Dove è scappato Dove è scappato Aveva l'astroname da qualche parte Non lo so What the fuck is this game Oh no Ok aspetta Non posso essere troppo veloce Perché se no Bugs Bugs Ok aspetta 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 Blizz 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 Grazie Buona Samba Ok Forse sto No dai Forse questo livello sarà più tanti minigiochi messi assieme che livello effettivo sai Ok Ok per il pulsante verde guarda attentamente Si Ok Ma devo fare Ok ma da cacata Cioè finora Questo livello è tanti minigiochi messi assieme Cosa ho fatto di sbagliato Oh madonna Dove renderli verdi tutti Ok aspetta Aspetta Pensavo semplicemente Ok 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 Poi Questo è bastardo Ok verde e rosso Ok Ok Tanto il centro deve restare tutto rosso Quindi Ok Dai dai ragazzi Una cagata Si fa Si fa Non mi sta dispiacendo questo livello Però ora sono soltanto minigiochi tutti assieme Eh Ok Rosso Ok aspetta Spero di aver visto bene ragazzi Perché sennò faccio una figura di merda incredibile Tanti tempo dovrei avercelo no Io spero che L'intero centro fosse Cosso Fosse rosso Altrimenti ragazzi possiamo riaggiustare Ok Ok era tutto Corretto Ok 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 Oddio era andato via l'audio E per un attimo ero cacato Ok è entrata Ok non è la fine del livello Bugs Ok Fatto questo non so quali altri livelli ci potrebbero essere Allora Comunque mi ricordo un episodio Con quella Ok carota Carota è importante Sì Un po' calcetà Devo fare il giro perché ho visto una carota E che mi prende cacca perché non so se questa roba è a tempo E che non so se le pedane sono a tempo perché lo vado veloce Io spero fosse la direzione giusta questa perché se mi perdo roba mi caccio Cioè è comunque un livello carino da rifare Però comunque insomma Dover rifare un livello perché hai perso roba È sempre un po' un ruppimento di caccio Qua è dove dovevo andare Oh no What? Ah non è che Ok le rosse sono proprio Anche di Undertale tutta sta roba ma Ok aspetta Ando diventando Gialle però Significa che sono per diventare rosse Che prendo danno però Anche fa molto l'abirintino di Undertale Questo è l'abirinto di papà E l'usosfak Sì però sono Però sono scemo Io spero di non aver fatto troppi casini Là dietro di non essermi perso roba Perché ho dato il timore Di essermi perso roba Di avermi perso roba E sbagliato il suo Ma Vorrei però Gli attivi Vorrei Grazie Ok Ok Vai La carota l'ho presa C'era una carota Nel centro C'è la carota ma nel centro Presa Vorrei anche fare Ok Mi sono aperto un'altra strada laggiù Sì A questo punto penso che Sì Ok allora non potevo andarci per forza Dall'altra parte Ok Ammazziamoci che si fa prima Se ci ammazziamo si fa prima Allora Allora qua Comunque non è male la carota sonora La sto apprezzando Allora qua No ti prego Pedana Pedana simulator Ti prego Pedana simulator 1999 Che poi non è un livello brutto Cioè la dimension X Mi piace effettivamente come posto Allora qua Qua Allora Adesso Vai di qua Ok Quindi non ci potremmo andare per forza Dal lato di qua Ok Quanto siamo? 14 su 21 3 su 5 Allora Acme mind E' sempre bene esplorarsi attorno Perché qua Ok aspetta Dobbiamo andare di qua per forza Sì E non ci sono altre vie intermedie Vai Salvataggio Da che parte si va Carota Lascia una carota E mi ispira fiducia Non credo ci sia roba extra Di qua Credo ci sia una carota E basta Sì C'era una carota E basta Ora qua 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 E qua Ok Ok Però se sono scemo Ok E' sempre bene comunque avere il 100 di carote Perché Non sai mai quando arrivi al punto che te ne serve una nuova Cioè che non ti serve Trova la combinazione segreta dei colori per vincere Premi i colori Per vincere i colori Aspetta Trova la combinazione segreta dei colori per vincere i colori Per vincere a Mastermind No il Mastermind ragazzi l'ho sempre odiato Disponi i colori e premi il pulsante per confermare I punti luminosi dicono che è il giusto Ricorda Banni In una riga non può esserci due volte lo stesso colore Oddio aspetta Perché il suo giochetto è il male Aspetta Non ho mai imparato a fare il Mastermind Vi prego Non ho mai imparato a fare il suo gioco Allora Oddio quanti colori Oh no Aspetta aspetta Io non ho mai imparato a fare il suo gioco No come lo dovrei vedere Scusami No aspetta aspetta Fra Aspetta 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 no Sto sbagliando qualcosa io Mi chiedo se sto sbagliando qualcosa io No non sto capendo No ragazzi vi giuro non sto capendo Io non ho mai saputo giocare a sto giochettino di merda No ti prego Ragazzi io sto capendo a sto giochettino di merda Facciamo un attimo a sto giochettino di merda Facciamo un attimo a scazzo non si aspettate Che cazzo fra Ok allora aspetta Allora io ho preso Ti immagino che cambi il risultato tutte le volte Quindi Ok il blu li va bene Quindi Ok ragazzi è anche un enorme vantaggio Nella riga non ci può mai essere lo stesso colore Quindi Ma non può mai esserci lo stesso colore Quindi Il blu li va bene Quindi Il giallo viene ci può stare Il Qua è blu per forza Sì Rosa Facciamolo così di prepotenza ragazzi Prima o poi Viola Arancione E Allora se tanti non ci può essere sempre Proviamo così aspetta Ok Blu Rosa Ok Aspetta aspetta sono scemo Sono scemo due volte Rosa Blu Ok Allora Viola Arancione Ragazzi c'è una possibilità ancora e basta Ok ok aspetta aspetta Possiamo farcela per il rotto della cuffia Allora Ho sempre odiato sto giochetto del cazzo Allora Ok e quanti colori ci sono Rosso e verde Ragazzi lo proviamo a caso Ti prego dimmi che è rosso Grazie Ero tentato di provare il coso il verde Ero tentato di provare il verde perché sono detto che non è possibile sia il rosso A sensazione Possiamo farcela possiamo finire il livello ci manca poca roba Boss fight Boss fight immagino Immagino boss fight Questa musica mi sa di boss fight Carota 21 carote giusto Ci manca 1 di 1 Ok No è vero non ero un po' a guerra Cerchio per arrampicarti sull'asta Cosa? Che cosa stracazzo? Oh no no Ragazzi sarà un macello Sarà un macello Ok Bugs va da solo Ok Ok aspetta aspettate È un po' complicato È un po' complicato Io spero di non aver ma Io spero che l'unica carota che non ho preso sia qua Io non so cosa intende per arrampicarti sull'asta Oh no Devi saperlo calcolare bene Devi saperlo calcolare bene Aspetta aspetta Si può fare Si può fare Ora capisco cosa intende per arrampicarsi sull'asta Ok aspetta ferma Fermo 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 No ma ti prego Deve essere perfetto Deve essere perfetto Cosa? Sono morto mentre spawnavo Spawn kill Ma spawn kill Ti prego Allora aspetta aspetta Allora aspetta 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 Ok non puoi lasciarlo subito Devi lasciarlo un attimo prima Che ti puoi lanciare Perché Bugs non lascia subito l'asta Deve Passa tipo un pochettino di tempo Passa un pochino di tempo Basta un pochettino di tempo Lo devo lasciare un attimo prima Non così però Non così Ragazzi il pezzo peggiore sarà l'asta Che poi sicuramente non sarà l'unica Sicuramente non sarà l'unica Allora aspetta aspetta qua Qua Stiamo iniziando a imparare Ok aspetta aspetta Ok aspetta aspetta Questo è il male però Ok ma tanto non c'è bisogno di saltare Lo fa da solo ok Non c'è bisogno di saltare Bugs se lo fa da solo Ok ok Sono anche in vantaggio in tutto questo Oh my fucking god yes No 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 Dimmi che posso ancora prendere quella carota Dimmi che la posso ancora prendere Ammazzati Ora si ammazza Ok ti fai di conto Ti fai ammazzato 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 Ok 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 La parte peggiore è stata Comprendere la cosa La parte peggiore è stata Riuscire a capire come funzionasse l'asta Perché ci sono due teleport 5 di 5 Ah questo è per riprovare Ok nel caso mi sia mancata della roba Ma tanto 5 e 5 21 21 Perché 99% 99% perché non ho preso tutte le carote normali Già è vero per fare il 105% Devi prendere anche le carote normali Ok aspetta Vedremo se è fallo ragazzi Perché non è impossibile Però wow Mi sa che ci siamo tolti tutti i livelli di mezzo Mi sa che ci siamo tolti di mezzo tutti i livelli di arritrati Ciao merlo Fantastico Perfetto Hai completato questo livello Lasciati salvi la tua posizione Subito merlo Grazie merlo Ciao Sì ci vediamo merlo Cosa abbiamo sbloccato ora Perché la fin fine è la sua importanza C'è la mia vita Guarda cosa succede oggi Il presente Uuuuh E' interessante E' interessantissimo 333 carote 123 sveglie Ragazzi Io direi Che è un momento perfetto Per fermare il video Anche perché sono le 8 Quindi Quei ben che vi saluta Quando avrà finito farà un quicksave bello Così sta sicuramente non perdere tutto che l'ha fatto E tanti saluti Ciao